Stiamo cercando tutti i ragazzi che siano appassionati al mondo dei videogiochi, in qualsiasi sport che preferiscano, quindi noi stiamo cercando di essere un punto di riferimento per loro in questo. L'obiettivo nostro è avere la possibilità di partecipare già a delle competizioni che partiranno a settembre-ottobre, che sia calcio, basket, che sono gli sport più rappresentativi della città, o altri generi di sport, tipo Formula 1 o tennis o altro. Possibilmente di pesaro così per creare un'aggregazione, per far sì che un domani anche un'academy, per insegnare magari i bambini più piccoli a diventare dei pro player veri e propri, magari chissà fare questo il loro lavoro un domani. L'associazione è nata a giugno, al momento noi logicamente siamo sviluppati su due fattori, che sono anche sport reali, perché la federazione non è ancora esistente, quindi noi non siamo logicamente riconosciuti ad oggi dal CONI, quindi stiamo aspettando quel tipo di ufficialità. Nel frattempo ci stiamo sviluppando anche su creare tornei che possono aggregare la gente all'associazione, quindi che siano boccette piuttosto che, con l'obiettivo ovviamente di andare su quell'ambito lì. Siamo nati a giugno, è giovanissima, arriviamo tutti e due dal mondo del gaming, quindi più o meno conosciamo l'ambiente, stiamo cercando anche di allargarci su quell'aspetto lì, abbiamo preso già contatti, e quant'altro. Quindi adesso noi stiamo cercando di quagliare quelle che sono tutte le nostre richieste, obiettivi, eccetera.